un saluto da dottor palmas ti mostro il caso risolto su una paziente con denti fissi sistema bocca bionica paziente che arrivava con dei denti metallo ceramica scheggiati vecchi ingialliti questa era l'occlusione nella parte inferiore portava una protesi abbiamo proceduto al posizionare gli impianti nell'arcata superiore e a salvare gran parte dei denti nella parte inferiore questo è il tipo di chirurgia che è stata eseguita la paziente partiva con uno stadio terminale nella parte superiore di parodontite i denti sotto è stato possibile salvarli con pac parodontale abbiamo ripristinato tutta l'occlusione nelle zone posteriori con degli impianti dentali per intenderci nella parte superiore non tanto in quella inferiore in quanto sotto abbiamo salvato dei denti ma sopra abbiamo usato degli impianti speciali pterigoidei per evitare le zone di vuoto dei seni macellari e su di questi abbiamo messo l'arcata questa è la tac tridimensionale prima e dopo qua puoi notare dove sono stati inseriti gli impianti le radici sopra non ci sono più in più abbiamo inserito nella parte inferiore gli impianti per i molari abbiamo eseguito un design delle forme di denti che avremmo voluto usare l'abbiamo condiviso con la paziente una volta approvati abbiamo realizzato i denti definitivi quella che vedi è una linea superior denti assolutamente indistinguibili da denti naturali abbiamo adattato la paziente voleva mantenere i suoi denti quindi abbiamo adattato il colore dei denti ai denti suoi naturali inferiori simulato la gengiva artificiale le texture di superficie assolutamente iperrealistiche nota l'effetto buccia d'arancia dello smalto e nota anche i colori della gengiva la paziente ha delle repliche dei denti artificiali in cloud questo è prima e dopo come si presenta assolutamente un risultato molto naturale lei voleva mantenere comunque le forme dei suoi denti che abbiamo semplicemente rinnovato con la linea superior